Preghiamo perché anche in questo nostro tempo, nel quale la voce del Signore rischia di venire come soffocata da tante voci, tutti i battezzati, le famiglie, le parrocchie, i movimenti, assumano l'impegno di promuovere le vocazioni con consapevolezza e convinzione. Lo ha detto Papa Francesco questa mattina, prima della preghiera mariana della Regina Celi, recitata dalla finestra del Palazzo Apostolico insieme a decine di migliaia di fedeli che affollavano Piazza San Pietro. Nella giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, il Pontefice ha ricordato che la chiamata a seguire Gesù è nello stesso tempo entusiasmante e impegnativa, perché si realizzi è necessario sempre entrare in profonda amicizia con il Signore per poter vivere di Lui e per Lui. In un tempo in cui, come ai tempi di Gesù, molti si propongono come pastori delle nostre esistenze, il Papa ha concluso sottolineando che solo il risorto è il vero pastore, che ci dà la vita in abbondanza, invitando ad avere fiducia nel Signore che ci guida. Ascoltiamo con mente e cuore aperti la Sua parola per alimentare la nostra fede, illuminare la nostra coscienza e seguire gli insegnamenti del Vangelo.